Ciao, sono Miriam Buonora, faccio la parrucchiera, è aperto all'inizio di febbraio. Allora, io facevo la dipendente già da 15 anni ed era da tempo che desideravo aprire la mia attività. E finalmente ho trovato l'occasione e Decipar mi ha aiutato, che mi ha fatto fare un corso di formazione per capire tutto quello che era necessario per aprire questa mia attività. È stato un corso gratuito finanziato dalla regione. Sarebbe stato molto difficile, ma ho avuto il supporto di CNA che mi ha seguito molto a livello burocratico e anche quando era il momento di chiedere un finanziamento mi hanno molto seguito e mi sono stati vicini. Sono molto contenta perché non avrei saputo dove sbattere la testa. Il mio sogno si sta proprio realizzando, sono proprio molto contenta e ho il progetto anche di una nuova collaborazione e spero che le cose vadano sempre meglio perché sono veramente contenta di essermi messa in proprio e di essermi lanciata nel mondo del lavoro. Grazie per la visione!